Creare un prodotto d'eccellenza per sottolineare il profondo legame con il territorio di provenienza e ribadire le straordinarie qualità sensoriali e nutrizionali riconosciute ormai in tutto il mondo dagli oli DOP a Prutino Pescarese. Il convegno, organizzato presso la Sala Consigliare del Comune di Pianella, uno dei tre paesi insieme a Moscufo e Loreto a Prutino a formare il cosiddetto Triangolo d'Oro, è stato un momento per fare il bilancio delle attività del Consorzio a Prutino Pescarese, che da poco ha celebrato i suoi vent'anni ed ha ottenuto l'approvazione da parte del MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle modifiche al disciplinare di produzione per essere sottoposti all'esame della Comunità Economica Europea. Un'importante vetrina dunque per l'olio a Prutino Pescarese, visto che il 2018 sarà l'anno del cibo italiano, un'occasione di grande valore per le nostre peculiarità gastronomiche, dove l'olio extravergine d'oliva svolge un ruolo di assoluto protagonismo. Il futuro degli oli certificati e di qualità sarà sicuramente propizio e favorevole, perché la tendenza dei consumatori e soprattutto all'estero si va sempre più alla ricerca dei prodotti identitari, riconosciuti e certificati. Tutto questo a vantaggio proprio di questi territori, come il nostro, della Prutino Pescarese, che a seguito anche della modifica del disciplinare che abbiamo ottenuto a livello nazionale adesso e a Bruxelles, passa da 34 comuni che costituivano il territorio della provincia di Pescara a tutto il territorio. Dobbiamo affinare la nostra capacità di comunicare, di far capire le qualità dei nostri prodotti e soprattutto di fare una netta distinzione tra quello che è il prodotto industriale, da quello che è il prodotto del nostro territorio, delle nostre aziende, che dietro ad ogni bottiglia c'è la storia, c'è la tradizione di una famiglia consolidata nei secoli.